Luca, io con te, ho un conto in sospesa. Oddio, oddio! E' lui, e' lui raga, e' lui! Non avresti dovuto fare quel video, non avresti dovuto riportare alla luce delle antiche ferite, non avresti dovuto fare quei versi di Pokémon, non avresti dovuto. E' oggi, io, dopo che mi hai riaperto questa ferita, sono pronto per distruggerti. Ho qui tutti i tuoi valori dell'ultimo video dei versi Pokémon. Generazione 1, 7 punti. Generazione 2, 6 punti. Generazione 3, 6 punti. Generazione 4, 9 punti. Generazione 5, 7 punti. Generazione 6, 9 punti. Generazione 7, 8 punti. Io oggi, ti affronterò di nuovo, nella battaglia dei versi Pokémon, sul tuo stesso sito. E questa volta, vedremo chi dovrà scontare una penitenza. Perché se dovessi fare di meno di un singolo tuo punteggio, sarò io a dovermi bere un altro caffè col sale. Ma se dovessi riuscire a raggiungerti in ogni campo e a superarti, sarai tu a dover bere del caffè col sale, in modo tale che potrai patire quello che ho patito anch'io. Tutto ciò, in diretta su Instagram. Cuffia alla mano, signori. E iniziamo di già, con la prima generazione. Questo è Persian, Luke. Eh? L'avresti indovinato? Questo è Geodude, Luke. L'avresti indovinato? Questo non so chi cazzo sia. Chi è? Pidgeot? No, Cabuto. Questo è Cabuto, sicuro. Questo è Cubon. Questo è Clefable. Luke, non mi fotti a sto giro. Questo è Sidra, forse. Questo dovrebbe essere Arcanine. Questo dovrebbe essere Nidorina. Questo è Miao. E questo è Staryu. Luke ha fatto 7. E io ho fatto 8. E io ho fatto 8. E la prima generazione è andata, signori. È andata, Luke comincia a tremare. Ho perso Sidra e ho perso su Nidorina e la Ivysaur. Sti cazzi, signori. Sti cazzi. Generazione 2, Luke. Questo è il tuo territorio. Lo so, è la tua generazione preferita. E ti distruggerò anche qua. Hai fatto 6. Sei battibile. Oddio, chi cazzo sono? Aundur. Proviamo Aundur. Questo è Cro... Questo è Croconau. Questo è Togepi. Questo raga non ne ho più palli di idea. Vado su Meganium, ha intuito. Fermi tutti. Questo dovrebbe essere... Picchu. Era Cross. Mi sembra strano che sia Lanthorna. Questo non ne ho idea. Chi sei? Cleff ha messo 300 Pokémon Baby. Vado di smoccio mio, però. Questo è... Oh, oh. Questo è Mentine. E questo è Delibird. Luke ha fatto 6. E io vor... 2, oh. 6. 6. 6. Non sono andato sotto. Non sono andato sotto. Luke trema. Perché anche sto giro rischi. Luke trema perché ho fatto il tuo stesso punteggio. Generazione 3. Hai fatto 6. Qua ti distruggo, Luke. Non hai speranza. Che cazzo sei, zio? Giracci. Andiamo di giracci. Questo è Trico. Fermi tutti con calma. Dovrebbe essere Kecleon, ha intuito. Oh, qua mi sembra un verso molto più incattivito per essere quello di un Wingal. Quindi andare di Blaziken. Cos'è sto aborto? Shappet? Shappet ha intuito. Questo era i Quaza. Sicuro. Questo è Bocelli. Questo è Phoebas. Questo è Salomens, secondo me. Brilom. Luke ha fatto 6. 9. 9. Insile è muto stai. Muto. Cazzo sfotti. Tu e il tuo Cricketune bastardo. E adesso ci andiamo alla quarta generazione, Luke. Ci andiamo alla quarta generazione. Vai. Dai. Fammi venire fuori un Cricketune. Questo è Copotas senza neanche... Cioè, senza ombra di dubbio. Itran Palese. Itran Palese. Riolu Palese. Toxic Lock Easy. Questo dovrebbe essere... Che rubi? Però non sono sicuro. Questo è Shinx. Non è di certo Arceusa. Questo è Luminion. Non l'ho messo prima Luminion, vero? Se non l'ho messo prima, forse ce l'ho fatta. Spiritomb. Intuito probobas tra questi qui. Vespi Queen. Luke, tu hai fatto 9 nella quarta generazione. E io faccio 10. E io faccio 10. Tu, zitto. Zitto. Generazione 5. Quattro su quattro battute per ora. Quattro su quattro battute. Eh? Tu che mi sfotevi tanto per il caffè sul sale. Mo' te tocca. Perché sulla quinta generazione hai fatto solo 7. Cos'è sto abortino, scusa. Ah, Pig Knight. Sei intuito, è Pig Knight. Questo è Chandelure? Ma questo è un Fezant. Tra questi qua non lo so. Wimsicott. Snivey, facile. Tra questi direi Cryogonal, sinceramente. Cos'è sto abortino? Sendile. Ammongous. Questo non lo so. Vado su Ammongous, ma sono sicuro 0, ti giuro. Lillipop, facile. Cazzo. Audino. Gotita? 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 Gotolita? 8! 8, Luke. 8 contro 7. Anche qua ti ho battuto. 5 su 5. Già ti vedo sboccare, Luke. Già ti vedo sboccare. Questa è la mia vendetta. Qua sulla generazione 6 hai fatto 9. Cazzo sei zio? Ok, Phantom. Perfetto. Senti. Ma cos'è sto abortino? Sento delle chiavi, Sara Klefki, raga. Allora, ehm... L'inverso mi sembra molto da cazzuto, come sa lui. Sicuramente Volcanion. Questo è Delphox. Inconfondibile. Spiupa. Sprizi. Vabbè, questo è Fletching. Raga, non lo so. Elioptile, devo fare almeno 9. Devo fare... 9! 9! 9! Luke! Ne manca una! E poi te lo bevi il caffè con sale! Te lo bevi! Manca la generazione 7! Siamo... Siamo... Ne abbiamo... Eguagliate barra battute tutte! Luke! Ci manca la generazione 7! Devo fare almeno 8! Soffri! Cos'è sta roba? Eh, Salazzol, Salazzol. Questo dovrebbe essere... Sarina, secondo me. Questo è... Vicka Volt, suppongo. Piki Pecchio Ricorio, merda bastardo! Mi sembra più d'oricorio. Questo dovrebbe essere... No, raga, non lo so! Non lo so! Brion, dai, Brion! Raga, non li so. Questo dovrebbe essere un illigo, però. Questo è più Kumuku, mi spacca le orecchie e lo riconosco. Questo non so chi sia, però direi Minior. Questo dovrebbe essere Xurky Tree, l'ultimo. Merani, raga, non li so. Questo l'ho persa. Dunque adesso ci avviene. Per fare il caffè con il santo. Per fare il caffè con il santo. Per fare il caffè con il santo. Non è derip Sam.